BOOM! Così, improvviso, partner! E che devo dire ragazzi? Eh no, Megatube, che tipo mi arriva l'email, sei partner di Michele, no? Di Megatube? Oh, sono Andrea Sit, nickname Sit, che ho un canale di nome Ravetube, dove mi occupo di web series. Super Sonic Raw Wings, cioè Speed Raw Wings, ma molto meglio. Romba varie e soundtrack, le creo, le mixo. E boh, sostanzialmente è questo. Che dire ragazzi, sono partner anch'io adesso, con Megatube, sono contento, insieme a tanti altri youtuber che stimo tantissimo. Sì, sì, partner, ciao. Che dire, spero di avervi fatto simpatia. Questo, sostanzialmente è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Seguitemi, ripetendo. Ciao. 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 Ciao.